sono arrivati anche i bad boy direttamente da milano buonasera e benvenuti sei bastone oh 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 you're such a you're such a you're such a you're such a temptation you just walk right in it oh 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 Grazie a tutti 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 A tutti Grazie 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 a tutti Per il Grazie a tutti 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 Come on Grazie a tutti 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 80 Grazie a tutti 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 Unico Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti